Si avvia la conclusione del 64esimo Congresso Nazionale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale qui a Santa Margherita di Pula a Cagliari. Al centro di questa quinta giornata il rapporto tra l'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, e la Medicina Generale. I moderatori dell'incontro saranno Andrea Pancani e Walter Marrocco. Nel pomeriggio invece l'attenzione del Congresso si sposterà sul tema del fisco e il rapporto con la Medicina Generale.